Salve ragazzi, sono Andrea Bruno, in questo momento sono venuto a dare omaggio in un posto molto particolare, siamo in mezzo a dei boschi, ritengo che sia giusto fare un omaggio a tutte le persone che sono cadute durante la seconda guerra mondiale, tanta gente morta essenzialmente per non aver fatto niente, gente che non aveva nessuna colpa e questo mi fa ricordare la stupidità umana, la gente che litiga, la gente che vuole il potere, la gente che cerca di ottenere un qualche cosa a discapito degli altri e questo ci deve far ricordare che la giustizia deve essere messa in ansia a tutte, non c'è giustizia con la violenza, purtroppo nel mondo ci sono tante guerre, l'Italia partecipa a tantissime guerre con il blocco Nato, guerre che sono giustificate con la mania di voler esportare la nostra democrazia, la democrazia che in realtà viene esportata solamente dove ci sono interessi economici, dove c'è il petrolio, dove ci sono delle ricchezze da poter portare via, questo non è giusto e voglio condividere questo mio pensiero con tutti quelli che mi ascoltano e anche con le anime dei caduti per questa stupidaggine, in questo posto sono, adesso vi faccio vedere la targa, in questo posto sono caduti più di 100 mila persone, sono seppellite qua in questo posto, più di 100 mila persone, sono seppellite qui e hanno anche sofferto, sono state ammazzate con grandissime sofferenze, questo posto è un posto proprio che merita di essere ricordato di posti così al mondo, non ce ne sono tanti, sono pochissimi, qui sicuramente di italiani non ce ne sono arrivati, sono venuto a portare omaggio. Ok ragazzi, questo clip finisce qua, un caro saluto a tutti da parte mia e ci sentiamo alla prossima.